ci racconti cosa stai facendo? la fontina! la fontina? adesso appena aspetta il fuoco che è arrivato in preparatura, adesso aspettiamo 20 minuti, 25, dipende, e quando non lo faccio poi. e dopo dove la metti? dopo la metto delle presse, stanno visto le presse per oggi, domani vado in cantina tra 3-4 mesi. quindi tu le metti a stagionare qua? sì sì sì, sono roba. ma queste quanto hanno? 15 stagionate, queste sono ormai di giornale, sono un po' che non l'ho più fregata neanche io. acqua e sale e le giri? però adesso sono 15 giorni e non l'ho più toccata. acqua e sale e le giri dall'altra parte, vero? mettono le gambele, mettono le gambele. una volta che toglie la crosta dentro sembra... ma toma fontina? fontina? fontina di un anno. bella. bella... bella. bella... 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 Grazie a tutti.